Non so, manco il cappello mi sono portato oggi per sicurezza di non perderlo qui Come minimo, lasci il mazzo nel sacchetto qua Non mia Ti dico, capire l'altra volta, dopo il torneo, dopo il torneo mi è lasciato in centro, sono andato da Margherita C'erano due amiche sue e un vecchio amico mio pure, che è uno dei, un ragazzo, e il ragazzo di una delle sue migliore amiche E allora contento, sono andato via a trovarli, no? Oh, quando stavo per andare via, mi alzo, mi giro, faccio tre passi, faccio zai Cioè, c'avevo i due, c'avevo tutti i matti che c'avevo Il computer, dico, questo mazzo, sto zaino vale attualmente una cosa come 3.000 euro in questo momento No, 3.000 euro forse no, 2.000 tutti De cui il 1.500 del sacchetto Sì, sì, sì Yugi e tutti i ragazzi ben ritrovati sul canale Oggi siamo qui insieme a Cristian e a Taz Per andare ad aprire insieme Perché mi ha obbligato, voleva aprirlo assolutamente Il nuovo box Io voglio, io voglio, io voglio, that creepy little punk E se lo trovo, se ti trovo una carta buona Ma regali, è una super del cazzo È questa qui, è quella di The Infernity Ah, ok Mi piace molto la carta Vabbè, se esce la Collector Comunque, vorrei mettere a fuoco questo cazzo di box Oh, guarda che bello Che bravo, eh Sono bravo Ma non è cambiato assolutamente niente No, che sei coglione, guarda Ha fatto tutto Comunque, all'interno di questo set possiamo trovare un sacco di roba interessante Anche se... Barone? L'ho demolito Barone? Chimera? Chimera? Barone? Alce il sincro E... Barone Vabbè, sì Diciamo, rispetto a quello CG è una merda Però, nel senso, alla fine Finché il box è gratis Sì, perché è gratis? Che fotte La prasa a cappello La prasa a cappello Che, se vi serve prodotto sigillato o carte singole Trovate il link del loro store qua sotto in descrizione E con il codice sconto 2023 cappello Avete il 10% di sconto su carte singole e prodotto sigillato Sono cumulativi? Eh? Sono cumulativi? No Ok, no, peccato Non c'hai un 30% adesso Ovviamente, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon, Dragomol, One Piece, Forza Will e Digimon Trovate il link del mio Instagram qua sotto in descrizione Contattatemi, mandatemi le foto E se ne può parlare Se c'è qualcosa di interessante, se ne può parlare Vediamo se riusciamo a tirar fuori qualcosa di umano Da sta roba Hai idea di fare un pacchetto a testa, quindi? Quante cose ci sono? 24 Sì Quindi sono... 24 per 3 Non è divisibile per te Sì Da sinistra verso destra secondo me Sì Inizio io Non funziona Vuoi iniziare tu? Inizia tu, eh? No, 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 dai Inizia Taz Che è almeno così la roba di merda Voglio vedere come ci arriviamo Taz arriva Come minimo tira fuori i baroni Te lo spacca, però E ci siamo giocati Però lo spacca Non capito Quanto è tipo un ultra pacchetto, vero? Ma no C'è tipo 4 ultra e basta Oh, è buono, buono Anche questa qui non è male Però falle vedere bene Nel senso Hai fatto così 1, 2, 3, 4 Ah, bello Forte, forte Taz Scusate Oh, oh Così È che io non so sbustare, raga Guarda, è talmente povero che Non so farlo Così Ma che povero, che povero Te compra a casa se vuole Che povero E che ticchio Ah, ok Quindi adesso, Cri Adesso vado io Guarda, guarda come si fa Allora Mette il pacchetto sotto la camera Si bestemmia perché non riesce ad aprire E poi trovi barone Adesso fai così Vedi? Va qua Un po' di suspense Un po' di, oh forte Un po' di pathos E dove, quante sono? Boh Non lo so Dobbiamo vedere Sujin E qui ci sono anche le carte di merda Sì, i nuovi supporti Ah, Fate Vabbè Oh, due super e sono umane? Sì, due super buone Dai Questa è buona, eh Ma anche Fate non è male Conta che le altre reprinte stanno Eh, guardalo Guardalo Non si può lavorare così Io so, sono bravo Corte di giustizia Oh Calut Zegin Forma del caos Vai cappero Siamo tutti con te Siamo tutti con che Oh, che merda No, che bella Cioè, bellissimo l'artwork però Se ne trovi altri, me ne regali una se non sta niente Sta tipo 9 euro Da 9 euro Ma che fa questa carta Ci so, 4 ultra qua dentro Però è bella un po' Non fa niente Semplicemente è arrivando alla seconda stagione che c'è l'accademia Veramente bella sarà Questa la metto in collezione Però hai sprecato una ultra Eh, sì, lo so Allora, vado col pacchetto Vediamo se ci riesco a sbustarlo bene Adesso uno dopo l'altra, piano piano Allora, anima del re supremo Non sai che le leggi Oh mio Ah, però ecco Oh, questa ha forte contro cash Oh, oh No, no, è l'ultima, cavolo L'80 dal foil È antico drago fatato Che comunque Oh, labyrinth Ah, no, no Labyrinth Vabbè, oh Vabbè, questa è la ristampa Antico drago fatato Metti qui da su Per mettere qua Sì Mettiamo tutto qui Oh, alla peggio 4 pack Poteva andare molto peggio Sì, o comunque anche delle carte buone Almeno Oh, pure loro due che Vabbè, è ricca, è ricca Non c'hanno stampe oltre quella super Effettivamente è vero Però non sta a niente No, è una merda Quello ovvio Però giocabilità, dici Ah, sì, il mazzo è umano Vediamo se Ha vinto una cosa Il momento di alzarsi Sai che fanno lo structure Di Jack Atlas Sì, lo so No, in Giappone Non è detto che da noi arrivi Ok, però credono che dovrebbe essere Forse il primo structure Con 15 carte di extra Vichissimo Eh, potresti anche metterle lì E far vedere Anche un pochino di alto La Taz fa come la Fa di merda La Taz non sa fa Però Sono giustificato Oh Bella sta carta Beccate questo No Ed è pure smintato Mamma mia Un botto È sporco Ah, è solo sporco, dici Cioè, dovrebbe stare Anche questa A 4-5 euro Però Questa è bellissima Però È piegato No, non è piegato Non è una piega È proprio una macchia C'è proprio nella colorazione Della carta Ci hanno sbordato sopra Poi è bello Un botto È carino Perché Sergio Però scusami Pensandoci molto bene Chi altri Avrebbe potuto Sbustare i BLS Se non io Tra noi tre Vabbè, l'ho accetto Comunque è incredibile Se quando faccio Le opening con te Non mi scappa mai in cazzo Vabbè, non sia Un'altra L'isola del dollante Ecco Guarda il secondo Zephylos Carta pendolo Questi che si davano 5 Queste carte Questa Sembra I ragazzini Che saranno 5 solo Pubblicità del Ringo Sì, la roba reprintata Finalmente Vabbè Carta Cyber Drago Sempre forti Sempre forti Cyber Draghi Non è vero Allora, vediamo Se ci riesco Stavolta a farlo bene Allora, ci siamo già giocati Due Ultra Io non dico Dei trovarsi A Barone Ci pensa Taz Ci pensa Taz Come minimo È il rituale ricca No, è il rituale X is ricca Vediamo un po' di nuovo Allora Riduzione del costo Però Ciro Troppo Non dovrebbe stare poco Eh? Ciro Troppo Potrebbe stare Stava una trettina Stava quella secret Fare print Magari Adicino ci arriva Sì, può essere Un po' Dai Guarda di scatto Vai E qua è carino Caruccio Sì, l'utopia nuovo Niente declatante Allora, a me mancano Sei buste Butta Sei buste Questa qui c'era Una carta Un po' più in alto Come minimo È barone E l'hai sminchiato prima Non è culpa mia Allora Dopo andremo a vedere Le carte belle Che potevamo trovare Esatto Allora Oh, guarda Suji Non ho imparato Sovraccarico Fusione sovraccarico K Best card Arbitare fotonico Comunque 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 Figa lei No, è la penultima È la prossima Sgig Oh, è bello Un bel po' Questi sono i supporti Del Ma sai che non è una merda Le voglio Voglio comprare Il playset di tutte Solo per provare un montaggio mazzo Sai che non fa schifo Cioè quelle ultra O quelle ultra O non fa schifo Tutte super Non fa schifo Non è un mazzo di merda Cioè nel senso Non è forte Non è un tiu Ormai ce la siamo spoilerata Mi sa È l'utopia Vabbè Ce la siamo spoilerata Buco Sangan Eccolo Muro Questo è un altro Al 6 Vabbè Allora mi sa che c'è una super appak Arrivata a questo punto No, non c'è una super appak Ragazzi qua dentro C'è barone Ah, è vero C'è una super appak Sono stupido Vabbè meglio di niente Poteva essere molto peggio Sì Decisamente È talmente forte sto barone Alza anche il volume della voce Così te si sente C'è ragione Scusa Inserio Allora Sali sopra che decri Tu che altro L'ha preso bacchetto Oh Oh Adesso c'è davvero barone Tutto smentato No Se c'è barone Andiamo tutti via Zephyrus Zephyrus Cartapendolo Bambini Ringo Urbitale E barone Cortesio Barone 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 Un altro fake Vabbè 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 No niente Però Il punto è che comunque È una reprinte che serviva Perché le altre stavano Veramente tantissimo No Se non sbaglio C'è anche un altro reprinto Oltre quale Sicuro Io mi credo no Forse c'era da MP C'era No no Non c'era da MP Il cazzo Era Le MP sono I mega teen Sono nati con Redox E quelli lì Ed è per quello Che c'era Judgment Non c'è mai stato C'è solo due Di queste carte Meglio Perché barone Qua dentro Lo vogliamo Lo voglio Dove dovrei Con lector Hai visto Che carte Allora Il guardiano Del cancello La versione brutta Perché non è Da predoni metallici Mecavaliere Una rossa La versione brutta Lezione di cost Preda del girai Agile pescatore Forte Anche perché Stava arrivando Un pochino troppo Tipo 3 euro Common Avrebbero una bannata Quando stava 4 Sgag Vabbè Un'altra utopia Vabbè Ma perché è forte Questa carta Cosa fa Ho letto l'effetto Non mi dispiaceva Tipo restava Un Un XS da cimitero E poi attacca I materiali Una roba del genere Allora rituale Super soldato Per ovviamente Tirare il nostro fratello Di prima Angelo Animale Supremo E Al tuo segnale Pronti duellate Mamma Il poliziotto E io che scappo Da Tu stai guidando la moto Rimontiamo Scusami Vai 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 Gli angoli Premili per bene Non di muovere la mano Bravo Dai Kazegin Forma del caos Questa raga Il pacchetto è prima Però stavolta c'è Il nuovo guardiano No Se tu vedi fusione Sei già Ok O è chimera Come la merda Beh chimera non è male No E' buono Il problema è che Non è mai chimera No ma arriva adesso Tanto ancora ne manca due Vero di ultra Si Ancora due No no Si si Ma da sapere che appello Dice le robe Ci sono due Due tre ultra Poi ci risale di quattromila L'altra volta ce n'era Un paio di più Beh prenderlo in un box normale Un paio di più Vedi cosa succede Ok Allora Questo non è un box normale Il goal Pazzorotto L'agile Per forgiare Il cosa Nei cavaliere Il muro Questo è buono E Oh Oh la prima super umana Grazie a Dio Va bene Quanto sta questa qui Tipo tre euro Solo Eh adesso aspetto Prima di vendere Che salgano di nuovo No La volevo io Dai caffè Alla fine Spelucca ma non apra Spelucca ma non aprire Capito Vedete Sono da sotto Guarda Che carta è Che colore Capito Va bene Dovrebbe essere Non è la prossima Però dopo ancora Ok Adesso spelucca ma non apre E' dove E' E' toccane Ancora E' sempre lui Vai Vai Risoliamo un'altra volta Sopra chi Dai che adesso te trovo Eroi uniti Sì no Moro Se esce veramente Eroi uniti Ma Va bene Il tuo momento È il momento di ribaltare È il momento di ribaltare Spelucca ma non apre alla fine Alla fine Questa non è Vai avanti Adesso dovrebbe essere l'ultima Spelucca 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 Da sotto Da sotto Da sotto Magia Perché ti sei fatto Da sotto Era 5 Invece Cambiava Ma ti immagini Metà barone Metà magia Vorresti più un barone Collector magari O metà barone Metà magia Metà barone Metà magia Ok sarà meglio Sì Ci faccio 10 volte tanto Una collector 10 Altro che Vai nei gruppi Gli americani pazzi Allora Questo 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 è la doppia Veloce Perché non sto scartando Voglio speluccare E non aprire alla fine Oh le ultra Dove sono È la prossima Tipo in realtà C'erano due ultra È la prossima No Non è chimera Non lo so No ma dai Perché lo dici Perché tu lo dici Perché lo so Perché non è mai chimera Andrì mi cervello Si è fermato Allora Guardiano del cancello C'erano due K'erano tre Poi Utopia bar Varian Zephyros Vediamo un po Apra Apra Spelucca 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 Fusione Adesso è cosa Vai Sempre quello Sempre sempre quello Allora L'ultimo pacchetto Si sono mischiate Abbiamo due Quello là Giallo verde Ci abbiamo il terzo Ah pure Abbiamo anche quello forte Tra il 307 e 50 Quello con tutti Forte Vediamo se Tazi Riescia a tirarci fuori la bomba All'ultima Guarda che è a fuoco A fuoco vai Oh anima occhi rossi La prima Oh bella È tipo anima di maghi Ma per i red eyes Ah si Piedina ricca E Va avanti Da sotto adesso Sto giro da sotto Da sotto Da sotto Piano piano Un'altra fusione Tanto è sempre quella Qua la sento buona Perché è duro Dovevamo pesarli Perché la collector Pesta di più Come si chiama Guardiano E robot Nel pratico La ultra Le ultra social Guarda Questo inquietante Piccolo Tipister In inglese In giapponese The return of the reaper Ritorno del meditore E poi Beccata Io te l'ho detto Però c'è capito Tu vedi Quanto so C'è carta Perché Attualmente 4-5 euro Ma è tutta roba Che crollerà Perché nessuno Si inculerà È bello un botto Però Bella e bella Bella e bella Bella e bella Bella e bella Io ora a cappello Ti offro Una sfida Cosa Ti scambio il mio pacchetto Per uno di tuoi No Fai male Questo lo apriremo Con due mani E va bene Ok Si può fare Peonia Kalut Forma del caos E Barone Sperucca Vabbè Un altro Avramax Devi sperucca però Da adesso in poi Accanto c'è un'altra ulta Prendi Quello c'è Tari Vabbè Facciamo da su Piano 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 Tutti Telo tenere qui Perché sennò Spaccamo tutto Senti È una cosa infattibile Da fare Facciamo così Siamo giochiamo in un modo diverso Guarda Chiudete gli occhi Voi due Chiudete gli occhi entrambi Non guardate Non guardate Ora non lo so nemmeno più Sinceramente dove è finita Cioè è qui in mezzo Chiaramente Ok aprite Ora scegliamo una testa Non si vede manco E scopri Posso subito Posso che per me Sei bravissimo Complimenti Non posso manco fare un gioco Io Ero finito Devi sempre Oh Anima Però Non è una cosa anima No È una rara De merda Vediamo un po' se che ha fatto Verrà sto barone È incredibile Tanto un ultra Non è barone È stato Sarà L'agile Doppio attacco Artista amico Angelo Preda E E qua ragazzi Qua 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 c'è barone Eh si ti buce un'altra super Pazziamo Era garantite 4 ultra almeno Ragazzi Non guardare Tanto non guardare Metterò bene Metterò bene Metterò bene Non guarda Speranza fino alla fine almeno Devi credere c'è cappello Oh ragazzi fermi Oh play set Io ci credo Play set di quello Già partiamo bene No Si Lì non è che ci devi credere Lì c'è barone Play set delphine Me cavaliere Guarda Barone Barone C'è barone Qua Speruca 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 Oh No Che cazzo è Quasi play set di Psybis È incredibile come tutte le Non è uscita la quarta A parte quella Può se ce ne erano tre Però che prodotto del merda è Un prodotto che c'ha tre ultra E tutto è super Quasi peggio di Quell'altro Reggio Fra Veramente Quasi peggio di quello No vabbè Non è quasi peggio Perché alla fine c'è barone C'era No ci sono delle carte buone Ma tre ultra è impossibile trovarlo Soprattutto Che ultra C'è nel senso Notato uno Poi chi altri erano Le altre ultra Poi questo è buono almeno C'è l'ho visto Opening dove hanno tirato fuori Il play set dei giudizi solenni C'è andava proprio male Veramente E mi è andata così E va bene ragazzi È incredibile che quando ci sono io C'è le robe io Quando le sbusto io le cose Sono a fortuna Quando le sbusto io Anzi non gli altri A te Non porti nessuno Sì ma vaffanculo Che ti do le carte Si sbannano Come te le do Si sbannano le carte O c'è no No bannata Che merda Dammi Dammi Boh Non lo so È perché abbiamo uno strano rapporto La roba che mi arriva Che c'ho Se la sbustiamo insieme Va una merda Se tu mi dai delle carte bandite Si sbannano Se tu sbusti O poi la pros Quasi ho quella dopo È incredibile Dai e Max C Mi l'ha già dato No quello l'ho già dato Infatti quello non ha funzionato È perché è troppo potente No ultimate teori di votare Perché quando li comprerò ultimate E te li venderò Al 70% Lì verranno sbannati E lì compierò il mio gesto ultimo Lì farò il gesto decisivo Il gesto finale Per mazzi Sì sì Appunto per forza Ora devo trovare delle carte Per Edison da cappello Quindi mi dobbiamo mettere a scavare Per un'altra oretta e mezzo Secondo me E la palta Mi sembra giusto Quindi Detto questo ragazzi State mesi E noi ci rivediamo domani Che video è strano questo Comunque Sì Sempre qua Con un nuovo video Ciao a tutti Ciao ciao Oh porca troia Ciao